Se negli anni scorsi, fino a alcuni anni fa, si parlava di difesa dei posti di lavoro intesi come assunte, quindi piuttosto magari parlare di aumenti o comunque di rapporti all'interno dell'azienda, ma oggi i sindacati e i giornalisti cercano di guardare oltre, di riorganizzare tutto il modello chiedendo di cercare insieme anche agli editori di trovare un equilibrio per chi fa questo lavoro, ma che però poi dopo alla fine si trova con quasi niente. Le cifre che avete dato te Muscatello erano abbastanza traumatiche, soprattutto su quanti soldi uno porta a casa alla fine dell'anno. Il campo giornalistico, il campo di lavoro intellettuale è emblematico, non è l'unico lavoro intellettuale che soffre dello stesso problema, dei traduttori, programmatori e cose di questo tipo. Il problema è che nel campo giornalistico si pensa che basta saper scrivere in italiano e si può fare i giornalisti, non è così, ci vuole una preparazione, una competenza che si matura negli anni e quindi una professionalità. Il problema è che anni fa, per dargli in cifre, 10-15 anni fa, più o meno chi svolgeva il lavoro giornalistico dopo un periodo di pratica sul campo veniva assunto, quindi c'erano pochi liberi professionisti non assunti per loro scelta che guadagnavano anche bene. Il campo del lavoro dipendente nel settore giornalistico si è ristretto mano a mano e attualmente tra quelli che sono i giornalisti attivi, il 60% oggi sono autonomi ma appunto, come si diceva, guadagnano meno di 10.000 e anche meno di 5.000 euro l'anno. Il problema a questo punto è come riuscire a dare degli inquadramenti, innanzitutto retributivi, certezza e diritti a chi svolge il lavoro autonomo, rendendosi conto che il campo del lavoro autonomo oramai è sempre più una realtà. Nello stesso tempo si trova nel dramma che se uno va da un avvocato, nella stragrande maggioranza di questi autonomi svolgono in realtà di fatto il lavoro dei dipendenti che dovrebbero venire assunti. Come risolvi questa questione? È improbabile che gli editori assumano quando un lavoratore autonomo ti costa 5-7 volte di meno di un lavoratore dipendente e quindi l'unica strada a quel punto diventa il ricorso al magistrato che obbliga ad assumere oppure ridisegnare completamente i modelli di lavoro. È chiaro e con questo concludo che molti editori stanno sul mercato solo perché hanno una pletora di collaboratori esterni sottopagati, cioè se loro dovessero vedere persone pagate decorosamente non potrebbero stare sul mercato, quegli editori sarebbero meglio che chiudessero. È anche vero che però i stessi quotidiani, i stessi gruppi, guardando anche in casa nostra, l'Espresso, a prescindere da quello che è l'aumento del costo dei giornali in edicola, però è anche vero che il fatto di avere sempre più collaboratori che appunto non riescono a vivere solo di questo comunque negli anni ha portato a un'informazione sempre più inacquata, cioè le grandi inchieste, le grandi situazioni dove vai a colpire bene, e quindi entriamo nel discorso del vice sindaco Martini sulla democrazia. Anche qui insomma i bilanci dei giornali in molti casi fanno acqua, quindi sì hanno risparmiato per un periodo però adesso la stanno anche pagando e non è solo una questione di crisi. Anche qui la risposta sarebbe molto complessa. Oggi basta aprire un sito internet e fare informazione, però indietro a quel sito internet può esserci New York Times o mia zia, e con tutto rispetto per mia zia che a casa si fa una sorta di giornali online. Allora il problema è che fare informazione fatta seriamente costa e fare un'inchiesta costa. Uno può produrre un articolo che esce su una pagina del Corriere della Sera ma c'è lavorato un mese, specie se lavora sugli esteri, e allora questa persona deve essere pagata un mese. È chiaro che a quel punto un editore o ha alle spalle sufficientemente ampi e un progetto di informazioni di qualità, oppure dice beh copio e faccio tradurre qualche cosa da un giornale straniero o prendo un comunicato stampa e così come stai già c'è cambiando due virgole le metto come dire in stampa o in onda secondo i casi. Il problema è che, ripeto, se uno va da un avvocato, se va da un chirurgo, non si aspetta che un'operazione gli costi 20 euro. Stranamente quando ti rivolgi a un giornalista, a un lavoratore autonomo, pare normale pagarlo 20, 10, 5, addirittura cito un caso, il giornale di Sicilia, mi dicono un euro l'ordo ad articolo. L'ultima domanda riguardo gli stagisti, sempre più gli editori, soprattutto quelli medi e grandi, utilizzano gli stagisti praticamente per coprire il 70-80% del lavoro di redazione. Lo stagista magari è contento perché si vede pubblicare qualcosa che ha scritto lui, tanti ti dicono fa curriculum, però poi alla fine non è che quel curriculum poi mangi. Allora, non so se la cifra del 70-80% mi pare un po' enorme, però non mi meraviglierei che in certa realtà tu hai, ad esempio, due redattori e 40 collaboratori esterni, quindi anche se non sono stagisti il ragionamento è lì. È chiaro che il giornalismo o è un hobby, allora è un dopolavoro, è un'altra cosa, o è una professione. La professione deve essere a retribuita, a due ti deve mettere in condizioni di vivere, altrimenti non sei in grado di fare giornalismo decorosamente con la qualità e con l'impegno che è necessario. Si sventola spesso con gli stage gratuiti, eccetera, la possibilità di fare un'esperienza, in realtà fare questa esperienza è sfruttare mano d'opera gratuita alla fin fine, illudendo perché poi questi alla fine hanno un'esperienza che se non si trasforma né in un contratto né in un'assunzione e dopo hanno solo la possibilità, presso un'altra testata di un altro stage. È chiaro che i conti non tornano.